Buona giornata a tutti e buon sabato, oggi è sabato 19 dicembre 2020. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 del Digitale Terrestre, buongiorno a chi ci segue anche attraverso la nostra pagina Facebook Occhionotizia.it. Oggi per noi è una giornata di Fano TV importante, una giornata di festa, perché oggi è il nostro compleanno, oggi Fano TV compie 15 anni, 15 anni insieme a voi, ci vediamo qui tutte le mattine ormai da ben 15 anni, sembra ieri. Allora, subito il santo del giorno, il santo di oggi è Sant'Anastasio I, il sole sorgerà alle 7.41 e tramonterà alle 16.32. Allora, uno sguardo giustamente anche al tempo, siamo nel fine settimana, oggi avremo un cielo nuvoloso al nord sulla provincia pesarese con diminuzione della copertura verso il meridione dove il cielo rimarrà sereno al poco nuvoloso. Durante la prima parte della giornata non si escludono occasionali brevi piovaschi sui settori settentrionali della regione, dove vedete le nuvole sono più scure, sono più cariche di pioggia. Andiamo a vedere domani, domenica 20 dicembre, 5 giorni dal Natale, avremo cielo sereno poco nuvoloso, attenzione alle foschie e alle nebbie, così come lunedì 21 con cielo sereno poco nuvoloso. Anche la parte centrale della prossima settimana sarà comunque una settimana, almeno la prima parte, senza pioggia. A questo punto, visto quello che ci attende, e sapete ormai tutti che insomma ci attendono giorni di lockdown, di chiusura totale, dove saremo costretti, nostro malgrado, a stare a casa, speriamo almeno in un po' di cattivo tempo fuori, almeno tanto per farcene una ragione. Allora andiamo a vedere, partiamo da qua, cominciamo dal resto del calino, la pagina nazionale che in apertura ovviamente, come tutti i quotidiani, pubblica il titolo e la notizia sul nuovo DPCM illustrato ieri dal Premier Conte. La chiusura di Natale è un pasticcio, questo è il titolo del resto del calino, il decreto solo in tarda serata, locali chiusi, spostamenti limitati dal 21 dicembre, ma tre deroghe e cavilli ed è subito il caos. Dalla vigilia di Natale fino al 6 gennaio dunque avremo 10 giorni di chiusura totale e 4 in zona arancione, 4 giorni in zona arancione. Poi vedremo quali. A casa massimo due ospiti, non si contano gli under 14. E qui già entriamo nella polemica, ma molti non hanno digerito questa intromissione del governo dentro le case. A casa massimo due persone. Insomma, le regole per le festività natalizie, questa è la grafica che ci fa capire subito come e che cosa ci attende. Allora, i giorni in cui saremo tutta l'Italia, sarà zona rossa, li vedete, la vigilia di Natale il 24, poi il 25, 26, 27 e il 31 dicembre. Poi l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Mentre in zona arancione, quindi non gialla come si diceva ieri, ma arancione, 28, 29, 30 dicembre e poi il 4 di gennaio. Ora, sulle regole sappiamo bene che cosa vuol dire il blocco totale per quando saremo in zona rossa. Quindi tutto chiuso, lockdown nazionale nei festivi e prefestivi. Dunque saranno chiusi bar, ristoranti, negozi. Non ci si potrà spostare tra comuni. Nei quattro giorni invece lavorativi saranno consentiti gli spostamenti tra piccoli comuni in un raggio però di 30 chilometri. Poi in auto e in casa, in auto non più di due persone, escluso il figlio minore di 14 anni. In casa invece massimo due parenti in più rispetto ai conviventi. Quindi diventerò tre se c'è un ragazzino minore di 14 anni. Capite insomma che la situazione è davvero ingarbugliata ed è un caos. Il Corriere Adriatico, titolo Natale blindato. Tutte le regole dal 24 al 6, rossa ovunque. Arancioni invece solo nei giorni feriali. Sia gli spostamenti nei comuni sotto i 5 mila abitanti. Questa è una buona comunque notizia. Ammesse le visite di familiari non congiunti. Ristori in arrivo, quindi soldi in arrivo per bar e locali. Aperti in teoria solo per l'asporto. Poi vedremo anche qua. Tutto chiuso, una presa in giro, la rabbia dei ristoratori e dei baristi. Poi da Pesero maxi screening, alta l'affluenza, trovati 25 positivi. In centro storico a Pesero un flusso contingentato se ci sarà la ressa. E poi gli studenti che dicono no al rientro a scuola dopo l'epifania. Cocaina sotto vuoto per lo sballo, sempre dalla prima del Corriere. Patteggiano e restano in carcere. Era stato sequestrato un chilo di stupefacente. La droga avrebbe fruttato oltre 100 mila euro. Nel camion trafugato un carico invece di refurtiva. Un'altra notizia che vedremo nel corso di questa rassegna stampa. Il cardino di Pesero, il titolo, la fotonotizia, scovati 25 positivi. Ecco, questi titoli a mio avviso non aiutano e non invogliano le persone a farsi il test. Sappiamo e lo ribadiamo che ieri era il primo giorno. Ci saranno ancora altri giorni nei quali appunto si potranno andare a fare questo test gratuitamente. Insomma, quindi, però ecco, è importante che ci si vada, soprattutto per stare anche un po' più sereni, visto che nelle prossime giornate saremo in casa, staremo in famiglia, staremo anche con qualche familiare stretto in più. Ecco, sapere di essere negativo comunque rende tutto più sereno. Quindi, piuttosto che stare col magone, ecco, è meglio avere la certezza di essere negativo e quindi fate questo tampone. Soprattutto per quelli che possono farlo, quindi pesaresi, gli urbinati, quelli che ci ascoltano dalle città, insomma, con più di 20.000 abitanti, dove si può fare. Allora, troppi rischi. A scuola non si torna. La protesta in piazza, il titolo del Carlino, degli studenti e delle superiori. La presenza, il 75%, creerà grossi pericoli di contagio. Pace in Confindustria, accordo su Papalini al posto di Schiavoni, ricuciti gli strappi. Poi la classifica dei fatturati. La Lube, azienda leader delle cucine maceratese, vince di poco il duello con l'altra leader, che è la Scavolini. Poi la cronaca porta a spasso il bastardino. Due pitbull glielo sbranano il dramma di un pensionato a Mondolfo, casa allagata dai liquami, paga il comune. Poi al reggimento Pavia di Pesero ora comanda il colonnello Martellotti. C'è un avvicendamento. Poi si parla anche di Sofia. Sofia è la sedicenne peserese che ha vinto, diciamo così, tra virgolette, è stata la migliore nella classe del collegio. È stata la prima della classe, un reality che come sempre riscuote molto successo. Poi l'inferno in famiglia, incontro protetto. Lei picchia l'ex davanti alla figlia, madre aggredisce anche le assistenti sociali. Ora è sotto processo per lesioni. Venite a fare il tampone, l'appello invece sul carlino di Macerata nella fotonotizia del sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, tra i primi a sottoporsi al tampone. Ecco, questa è una fotografia e questo è un messaggio da lanciare. Il primo giorno dello screening di massa, 645 maceratesi al Centro Fiere, soltanto due positivi. Partenza più lenta rispetto agli altri capoluoghi. Operazione fondamentale contro il virus. E poi sempre dai giornali, nelle pagine interne, questa è la pagina 3 del resto del carlino, la stretta di Natale, Italia rossa per dieci giorni, ma sarà possibile ricevere parenti e amici. La deroga permette a due non conviventi, accompagnati anche da figli minori di 14 anni, di recarsi in una casa della stessa regione. Chiese invece aperte fino alle 10 di sera, nei quattro giorni arancioni, e per me su uscire dai piccoli comuni. Il Premier Conte parla comunque di scelta difficile. Le reazioni, quali sono state? Beh, De Luca, il governatore della campagna, dice le mezze misure scontentano tutti e poi gli altri meloni, ora mi aspetto che il Presidente del Consiglio si scusi con gli italiani per aver fatto in questi mesi delle norme rivelate, si completamente inutili. Poi, attenzione, bisogna ricordare anche che ci sono controlli sulle autostrade e negli autogrill, vanno evitati assembramenti a tutti i costi. Il Corriere Adriatico, il titolo, due colori per le festività, ma il Governo concede il cenone. A numero chiuso il Premier Conte, consentite le visite ad amici e parenti, massimo due persone, chiese luoghi di culto aperti fino alla 22, sì agli spostamenti dai piccoli comuni. Anche il Corriere con questa grafica illustra un po' qual è la situazione e come sempre per gli spostamenti in zona rossa ricordiamo le tre regole d'oro. Ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità e motivi di salute. Questo è quanto. Poi, per quanto riguarda anche, sempre il Corriere, le domande, le risposte, cercando di facilitare la vita un po' alle persone, nel districarsi, farò bene, farò male, sarò in multa, posso andare lì, posso andare là. Allora, visite, spostamenti, shopping e ristoranti, cosa c'è da sapere? In zona rossa si possono ricevere fino a due persone, anche senza grado di parentela. Quindi due amici locali e bari aperti fino a mercoledì, poi consentiti solo l'asporto e le consegne a domicilio. Di questo però ci siamo già più o meno abituati, quando eravamo almeno noi marchigiani, in zona arancione. Mentre il 27 dicembre c'è il vaccino dei, è il giorno del vaccino. Nelle Marche arrivano 200 dosi. Ora, sapete, il 27 dicembre, un po' in tutta Europa, è stato definito, deciso di fare questa giornata simbolica, dove verranno iniettati i primi vaccini. Qualcuno, chiaramente, è già andato avanti, gli inglesi, eccetera. Però, insomma, anche se poi loro sono ormai fuori, ma comunque in Italia arriveranno le prime 9.750 dosi di vaccino della Pfizer, che verranno distribuite in eguale percentuale in tutte le regioni per una profilassi simbolica che durerà dalle 7 alle 22. Ora, chi toccherà? Toccherà chiaramente ai sanitari, a quelli che sono in prima linea nella lotta a questo coronavirus. Quindi il 27 dicembre è il giorno scelto in tutta Italia. Soltanto 9.000, immaginate, 60 milioni di italiani, soltanto 9.000 vaccini, quindi dosi distribuite dalla Pfizer, è solo proprio una cosa simbolica. Queste 200 dosi, invece, arriveranno anche nelle Marche, perché le Marche, chiaramente, avranno anche loro dosi, insomma, e quindi saranno soltanto 200 e in qualche modo verranno somministrate, appunto, a questi operatori sanitari. Ieri poi è iniziato, invece, i tamponi. Sono iniziati qui nelle Marche i tamponi di massa. Di questo parlano i giornali e andiamo a vedere come è andata. Ve l'abbiamo fatto vedere anche nel nostro telegiornale, ieri sera alle 20.30, con repliche oggi alle 11, alle 13.50. Allora, tamponi. Si parte subito con la fila. Il nostro test, il nostro test inteso come quello del Carlino, all'Istituto Santa Marta, lo ha fatto Simona Spagnoli, che vedete nella foto, in mattinata soltanto tre positivi, gran folla fin dalle prime ore, in cima alla coda una ragazza di 22 anni. Per adesso, però, l'adesione si ferma a 2.563 esami, sotto la media prevista, però, insomma, continuiamo a ribadire, continuiamo a dire anche attraverso la televisione di fare questo tampone, di farlo senza preoccuparsi troppo, ma di farlo soprattutto perché è bene volersi bene e voler bene anche agli altri. Quindi è un gesto d'altruismo, se vogliamo. Mentre come è andata nella provincia di Ancona? Andiamo a vedere il Carlino, 6 positivi su 1.555, vedete rispetto a Pesero sono un po' meno, anzi molto meno, Ancona straccia però la provincia di Bolzano, percentuale dello 0,39 di incidenza di positivi contro lo 0,92 registrato in Alto Adige nell'unico precedente italiano di questo genere. Più persone però il pomeriggio rispetto al mattino, il sindaco fa l'esame, non è un liberi tutti, ma più gente viene e meglio è. Cioè, come dire, e lo dice anche il governatore, lo dice anche la sindaca Mancinelli, insomma, non è che uno perché è negativo poi è libero di fare quello che vuole. Diciamo, intanto negativo e quindi va bene, però è più tranquillo, più sicuro, eccetera. Poi l'attenzione deve rimanere comunque alta. Molti alla fine però, dice il governatore della regione, Acquaroli, molti alla fine non lo faranno per paura di risultare positivi. Dobbiamo cercare, dice Acquaroli, dobbiamo cercare gli asintomatici, quelli che non hanno sintomi, perché sono loro che poi creano problemi, perché uno che sta male in linea di massima e che ha sintomi sta a casa, ma quelli che invece non hanno sintomi, ma che sono positivi, infettano e come? E di quelli bisogna stare alla larga. E qui vale l'unica regola d'oro in assoluto che batte tutti. Cioè, qual è la regola? Stare distanti, avere la mascherina, perché anche se incontriamo una persona che sembra in perfetta salute, potrebbe essere infetto. Come difendersi? Stando lontani, stando con la mascherina. Poi, ripeto, in questa fase, dove anche qui nella provincia di Pesurbino, dove circola molto questo virus, se non è necessario incontrarsi, se non è fondamentale incontrarsi, in questo periodo evitiamo di incontrare. Una telefonata, una videochiamata e risolvi la faccenda. Il tampone, per passare feste più tranquille. Vedete, questo è il messaggio corretto che passa attraverso le dichiarazioni di queste persone che si sono già sottoposte al tampone. Così potremo stare insieme ai nostri genitori. Gli umori degli anconetani al pala indor sono buoni, non immaginavamo di trovare così tanta gente. Questo è un gesto di responsabilità. Certo, responsabilità e quindi è giusto così. Senigallia, invece, positivi 67 studenti. Altri 274 isolati. A scuola il coronavirus corre ancora. Nel senigalliese il 10% dei casi attivi. In tutto 634 è maturato in classe. Rischio assembramenti in centro. E poi si parla del contagio nelle case di riposo. Sempre a Senigallia, ancora operatori infetti. all'opera Pia Mastai-Farretti, attesa per gli infermieri militari. Siamo sulla pagina di Urbino, perché anche Urbino ha ieri in deroga quella che era la regola dei 20.000 e più, ha iniziato questo test di massa. Dagli esami a Urbino 4 positivi. E per loro subito i tamponi molecolari. Urbino, primo flash del direttore del distretto. Paolo Marchioni, che dice che sono arrivate qui 200 persone. E poi, sulla cronaca di Ancona, il virus uccide un 53enne. Le Marche a rischio. L'uomo era ricoverato a Iesi, come l'imprenditore Cerioni. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la Regione Marche ha la probabilità di una impennata nel mese di gennaio. E queste, chiaramente, non sono buone notizie. Il governatore, invece, a Rotari dice sulla zona rossa chiudere tutto e tutti è un errore. È intervenuto in videoconferenza a Quaroli e dice la salute della sanità marchigiana. Sul tema della salute della sanità marchigiana, il governatore, incalzato dalle domande dei soci, ci ha parlato anche del lockdown e dell'ospedale regionale del Torrette. E dice che chiudere tutto per 15 giorni porterà gravi danni all'economia, ha sottolineato Quaroli, in merito ad un sempre più probabile lockdown. Questo, chiaramente, è un articolo scritto prima del DPCM annunciato ieri. Nelle aule, invece, e qui parliamo della scuola, sapete, dopo il 7 di gennaio, in teoria, gli studenti delle superiori che oggi continuano a fare lezioni a distanza, didattica a distanza, dovrebbero tornare a scuola. Però c'è l'incognita dei trasporti, c'è l'incognita di come farli arrivare, eccetera, eccetera. Nelle aule i ragazzi sono al 50% e non al 75%, altrimenti servono 85 mezzi in più, cioè 85 pullman. Il preside Rossini dice capacità di carico degli autobus e presenze devono andare di pari passo, e il modo migliore per evitare nuovi contagi. E lo scenario del doppio turno è complicatissimo. Si pensava anche, proprio per scaglionare, arrivi, partenze e quindi non andare a sovraccaricare il trasporto, di scaglionare, appunto, di far entrare in orari differenziati e far uscire, evidentemente, i ragazzi e gli studenti in orari diversi. Ma diventa un po' complicato, perché poi c'è tutto il personale che deve stare lì, eccetera. Insomma, diventa un po' difficile. Chiusa la parte, anche se non del tutto, del Covid, la cronaca. Andiamo sempre sul Carlino. Porta a spasso il cagnolino, due pitbull glielo sbranano. Santa Veneranda è il dramma di un pensionato che ha visto massacrato sotto i propri occhi il suo amato Snoopy, la figlia un dolore inaccettabile. È successo ieri, come ogni mattina alle 8, alle 8 del mattino, con il suo cagnolino Snoopy, di 7 anni, salvato a suo tempo da un canile, pochi minuti di passeggiata, poi è arrivato vicino ad uno spiazzo alle spalle del bar Fabio di via Bonini a Santa Veneranda, e da un parcheggio, come furie, sono spuntati due pitbull senza museruola che hanno azzannato immediatamente questo piccolo cagnolino e lo hanno sbranato in pochi attimi. Tutto questo sotto gli occhi terrorizzati del proprietario, un settantenne di nome Walter, che non ha affatto in tempo a reagire per difendere il suo cagnolino. Tutto il racconto lo troverete sul resto del Carlino oggi in edicola, così come il Corriere Adriatico. La classifica invece delle due aziende più importanti dal punto di vista, come dire, sulla fronte delle cucine, eccetera, eccetera, l'Ube e Scavolini, l'Ube che vince questo duello, anche se per un soffio rispetto all'azienda pesarese, l'azienda del maceratese dunque ha dei dati di bilancio sicuramente migliori di quelle della Scavolini. Poi pandemia, l'allarme di confartigianato, estetiste, parrucchieri, tatuatori, servono i ristori, servono i soldi, i fondi, le imprese sono già in sofferenza da giugno, ora alcuni fondi ci sono, ma soltanto per pochi. Addio a Tomassoli, grande tifoso, ultimo pronostico in punto di morte, la scomparsa del titolare della storica tabaccheria di Viale Cialdini a Pesaro. Aveva 86 anni. L'altra sera ha detto il figlio stasera il toro ne prende tre, e così è successo. E poi ci ha lasciati. Il ricordo di Roberto. Allora, va detto che domani alle 18 ci sarà il rosario a Loreto, nella chiesa di Loreto, poi lunedì, sempre lì, alle 15 si terrà il funerale. Andiamo sull'altra pagina. Questa volta parliamo di soldi. Per i peseresi c'è la tassa Tari, con un ritocchino in più in salita del 2,5%. E molti dicono, visto il periodo, è come uno schiaffo in faccia questo ritocco in alto. Amerigo Varotti di Confcommercio contesta l'aumento deciso a Roma, contrari anche CGL e CISL, che invitano i sindaci alla disobbedienza. Tutti i comuni hanno avvallato la nuova tariffa che entrerà in vigore nel 2021. E dunque sotto la presa di posizione di Enrico Rossi sull'innalzamento, il sindaco di Cartoceto svela, abbiamo evitato il 6,6%. La lunga trattativa dopo la decisione di Arera è stata tra gestore e assemblea dei sindaci di ATA. Enrico Rossi, che dice che dieci giorni fa disse pubblicamente di essere contrario all'aumento di questa tassa. La mia protesta, oltre a quella di altre, ha permesso di calmierare l'aumento fissandolo in sede locale con il voto dell'assemblea dei sindaci al 2,5% piuttosto che al 6,6%. Chiaro che al 6,6% sarebbe stata una batosta fuori dal comune. L'acqua del rubinetto, invece, questa è la pagina di Fano del resto del Carlino, in pochi se la bevano, questo è vero. I dati, pur essendo buona, i dati dell'indagine di gradimento che Aset ha commissionato, il 47% degli intervistati dichiara di non berla mai, cioè uno su due non la beve. Promossi, invece, tutti i servizi. Sull'altra pagina, invece, il Corriere Adriatico di Fano anche il mondo della spesa si sente all'ultima spiaggia con l'attività singhiozzo della ristorazione, la marineria soffre i morsi della crisi. Poi, guardate questa fotografia, ve l'abbiamo già fatta vedere anche sul nostro sito internet, il bambinello Gesù appeso a testa in giù. Un altro atto vandalico, il secondo, in ordine di tempo, compiuto nei confronti del presepio del Pincio a Fano, realizzato dai maestri carristifanesi. Giorni fa qualcuno ha strappato Gesù bambino dal grembo della mamma, di Maria, e l'ha scaraventato per terra. L'altro giorno qualcuno, invece, qualcun altro ha fatto peggio e lo ha peso a testa in giù. Evidentemente si tratta di gente agnostica che non ha alcun valore per Natale. Ma più che agnostica, ma che agnostica? Ma figuriamoci. Per essere agnostici bisogna avere intelligenza, intelletto. Chi fa questi gesti non c'è manco quello. Andiamo a vedere la pagina della Valle del Metauro, invece. Fano. Aset passa l'esame del gradimento. Anche qui, secondo Sigma, sfiora in pargella. Sondaggio tra 800 famiglie e 200 aziende. Reginelli dice uno scenario positivo e stimolante. Tirocinio formativo da remoto accordo tra Donati, siamo a Fossombrone, l'Istituto La Scuola Donati, e l'Aquilone. Sul furgone rubato un carico di refurtiva fermato dalla polizia regisce a calci e pugni e viene arrestato. Tre complici riescono a scappare. Ma quando gli agenti aprono il Fiat Ducato trovano un bazar di abiti, oggetti e attrezzature varie. Un furgone praticamente pieno zeppo di vestiti e oggetti rubati che la polizia di Fano ha scovato e arrestato poi un rumeno di 28 anni senza fissa dimora per il reato di ricettazione e resistenza pubblico ufficiale successo intorno alle 8 di sera di giovedì scorso. Poi, adeguamento sismico, progetto per la scuola media Gandiglio, un progetto che è stato approvato, progetto esecutivo di questi interventi per l'adeguamento sismico di questa scuola. Poi da Vallefoglia alvia da oggi la distribuzione dei buoni spesa. Due punti a cui rivolgersi la consegna verrà effettuata in ordine alfabetico. Dunque, per tutti coloro che ci ascoltano da Vallefoglia oggi sappiate che c'è la consegna di questa tessera. Oggi e domani l'amministrazione in collaborazione con il gruppo comunale della protezione civile consegnerà dei buoni spesa per tutti coloro che nei giorni scorsi ne hanno fatto richiesta. Quindi saranno in distribuzione oggi. Da Urbino invece arrivano cinque nuovi minibus. Ami investe sull'entroterra. Il direttore dell'azienda Benedetti dice guardiamo al futuro con fiducia perché siamo in grado di offrire un servizio green cioè un servizio ecologicamente pulito e anche sicuro. Poi sempre dalla pagina di Urbino ma questa volta il Corriere screening Urbino risponde alla grande quasi 600 i tamponi effettuati nelle sei postazioni distribuite tra il Bocciodromo e il Collegio Raffaello più numerose le donne scoperti sei positivi tutti asintomatici già in isolamento e in attesa di fare il tampone molecolare. Poi c'è un'iniziativa con Babbo Natale che troverete sul giornale di oggi tra l'altro oggi Babbo Natale alle cinque su Facebook ricordo collaborazione a domani a domani Riccardo scusa avevo letto male il giornale quindi domani l'appuntamento con Babbo Natale alle cinque su Facebook le strade invece per il Catria gestite ora sono da Cantiano la provincia non potendo garantire la manutenzione le aveva vietate ma ora l'amministrazione cantianese ha deciso di pensarci in proprio non possiamo fare a meno di un flusso di gente verso il monte per quattro mesi e dunque ci pensiamo noi dice il sindaco Piccini andiamo sulla pagina sempre sulla stessa pagina 1.200.000 euro per valorizzare la domus del mito l'annuncio della capogruppo qui siamo a Sant'Angelo invado di minoranza Emanuele Lagalli opportunità eccezionale per promuovere il sito Valcesano fuori tir dal centro storico la variante ora è cosa fatta da martedì l'inaugurazione del secondo tratto della strada 424 di San Lorenzo in campo e poi da Mondolfo la disinfestazione è partita contro la processionaria ripuliti i primi sette pini e abbattuto un albero l'intervento prosegue anche nei prossimi giorni a Senigallia invece il ponte 2 giugno ha un'anima presto l'asfalto poi il collaudo concluso il posizionamento delle travi l'esterno sarà ricoperto con le vecchie balaustre da Senigallia ancora il Carlino servono medici e operatori all'Opera Pia alla richiesta della RSA dopo il boom di contagi solo 5 positivi su 90 sono sintomatici sotto gli sconti Covid della parrucchiera dei VIP nonostante la sua crisi poi sempre da Senigallia un poliziotto che litiga con i vicini di casa spara per mettere paura il colpo è finito a terra dopo vari diverbi per il posto auto la gente ora a processo per minacce aggravate dall'utilizzo chiaramente dell'arma l'udienza per lui sarà a marzo lo sport di Donato il Fano con l'Arezzo scusate la Vispesero con l'Arezzo contro il suo passato il mister infatti della Vis ha giocato due anni in Toscana in Serie B con 77 presenze e anche un gol nella scorsa stagione ha anche guidato la squadra toscana con buoni risultati mentre il Fano il Fano è bello carico titola il Corriere a Modena per provarci il preparatore Giovanelli dice il gruppo sta bene nonostante i recuperi giocati la VL VL stasera a Brindisi senza niente da perdere Repegia e la trasferta contro la Capolista una bellissima sfida per l'orgoglio ed è tutto grazie per averci seguito l'appuntamento questa sera alle 8.30 alle 20.30 con 7 per occhio il magazine nel quale poi ci scambieremo gli auguri per questa nostra festa che è anche la vostra festa e 15 anni di Fano TV grazie per essere stati con noi anche questa mattina e buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.